Se li mangio sarò male di sicuro Ma chissà dove hanno messo le mani questi prima di farli So nemmeno cosa ci sia dentro Questi non sanno neanche usare la forchetta Sembra proprio disgustoso E questo come si mangia? Puzza come loro Preferisco digiunare Io non mangio il loro cibo No aspetta fammi assaggiare Se discrimini non sai cosa perdi Papà Ti faccio assaggiare qualcosa di nuovo Sarà mica quei piatti strani Cinesi in numero che Sai che lei Mangia tutto quello che si muove Papi chiudi gli occhi E assaggia Ah però Apri gli occhi Apri la mente Adesso il caffè non collego con sacchè Non discriminare Ehi mamma Chiudi gli occhi Madonna mia Che cos'è questo odore Antonio Non sai che io Mangio solo roba nostra Italiana Ehi sin da me Chiudi gli occhi E' buone E' buone Apri gli occhi Apri la mente Fammi senti Ma dove lo trovo io Questo curry Curry? Curry? Non è già te Ma Curry si dice Non discriminare Un pomeriggio assolato In una metropoli Apparentemente E' buone Direi E' buone Informazione Perfavor C'est bon E' buone Evolive E' buone E' buone E' buone E' buone E' buone E' buone Veure E' buone E' buone E' buone non mangiarmi mangia lui che è nero no 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 ma mangia lei la carne dei bianchi è più digeribile lui è già colto e poi è speziato siamo fatti degli stessi ingredienti non discriminiamo all'alba della marcia su Parigi il Führer preparava i suoi uomini parci vorrei mangiare uno strutel parci un po' inferiore io voglio patteviust con graudi schnapps e lo strutel pronti per la marcia su Parigi nein pronti per ordinare ancora il giorno dopo le truppe tedesche si ritirarono dal fronte cambia testa cambia la storia la storia è stata non non poi la storia Grazie per la visione!